Buongiorno, 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 vi ho detto che noi ho vinto di diventare il laboratorio la che il mal di vita ha la di diventare bene. Allora, le difficoltà, invece di farci arrabbiare, ho vinto che appare come un'occasione per diventare più forti dal fronte proprio a altre difficoltà dopo. E displace il dolore, la sofferenza, alla di farnos diventare più umani, più sensibili e farnos cuviargi un mare di fradis che provino le stesse cose che provino. E di che altre bande, l'Avigni non ha di conturbanci con gli spori perché l'Avigni è pieno di spori. No, noi vim d'illuminarlo con la speranza e mudirsi serenze e dolce davanti di vita che nos toglie. Buona giornata e buona vita.